Grazie a tutti. Grazie a tutti. Chi è che lavora qua? Allora. Faccio la panina. Faccio la panina. Io la guardo, è una bella donna. Cosa vuole? E' piante. E' buona che è buona. 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 Sempre così, tenendo conto che di tutto il volto ti serve il volto. E gli metto un po' di prezzella. Di chi è questa? E' buona che è buona. E' buona che è buona. E' buona che è buona. Ma chi? E' buona. Dunque. E' buona. Insieme a qui. Guarda. Uno. E la stringi. mettiamo un po' di pollo grazie grazie